Edder, Mech, Pallister. Dove di primo febbraio 2024, quando trovi la forza di mettere un punto, non è solo la fine, è anche il tuo nuovo punto di partenza. Buongiorno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Edder, Mech, Pallister. Ehi, non dimenticare di iscriviti al nostro canale. Grazie.